L'invito a uno scatto di coraggio e a mettere al centro il tema del lavoro che manca da creare e darsi da fare con politiche concrete di sostegno agli investimenti che non ci sono più. E questo è il senso dell'industriarsi che è leitmotiv del 18esimo congresso nazionale dei metalmeccanici della CISL, tre giorni di convention per 500 delegati a Lecce, all'avvio proprio nel giorno dell'atteso tavolo romano con il Governo. Il Governo deve mettere le risorse disponibili in via prioritaria sulla riduzione delle tasse, sulle retribuzioni e sugli investimenti e gli imprenditori devono essere disponibili a investire di più sul futuro del nostro Paese. Uno sforzo corale che chiama in causa la politica, le imprese e naturalmente il sindacato pronto, ha assicurato Farina a fare la sua parte. Il settore metalmeccanico vive una fase di particolare difficoltà, nuovo crollo della domanda di acciaio, disimpegno delle grosse multinazionali, crisi nera delle commesse. Un esempio salentino su tutti, l'onfesa di Trepuzzi schiacciata dalla mancanza di ordine e da una gestione fallimentare. Le ferrovie, le grandi utility dello Stato non fanno più investimenti, le imprese non fanno investimenti e quindi è chiaro che se non partono gli investimenti non ci saranno neanche poi il lavoro per le attività manifatturiere. Industriarsi quindi e creare le condizioni per riattivare gli investimenti con uno sguardo alle possibilità concrete di maggiore incisività dell'azione sindacale a livello internazionale offerte dal sindacalismo globale su cui ci si confronterà nella seconda giornata di lavori congressuali.